Ciao a tutti, eccomi tornati in un nuovo video. In questo video vi racconto di un'applicazione che ho scoperto di recente. Non fatevi ingannare dal titolo, il titolo deriva da come l'ho scoperta. Un giorno mia madre arriva a casa e mi dice non puoi capire, la mia collega è dimagrita tantissimo perché ha scaricato un'applicazione che fa dimagrire. Io ogni volta che si parte in questi termini sono super scettica e non ci credo mai. Puntualmente ogni volta che qualcosa fa dimagrire è una bufala e non funziona. Quindi vabbè le dico fammi vedere, scarichiamo sta applicazione e mi accorgo che effettivamente non fa dimagrire. Considerate l'ho fatta scaricare a tutte le mie amiche, cioè l'ho fatta scaricare, ne ho parlato alle mie amiche anche loro l'hanno scaricata, io l'ho scaricata, mia madre l'ha scaricata, le sue colleghe l'hanno scaricata e l'ha scaricata anche il mio ragazzo, si può dire. E nessuno di noi è dimagrito in modo vistoso. Anche perché in realtà nessuno di noi ha seguito la propria dieta. Quindi insomma l'applicazione di per sé è chiaramente strano ma vero, non fa dimagrire. Però ve la consiglio perché è un'applicazione molto utile per tenere sotto controllo quello che si ingerisce. E non parlo soltanto di calorie, parlo di calorie, parlo di grassi, di proteine, di carboidrati all'interno di una giornata. Più che per dimagrire, perché la maggior parte delle persone che l'hanno scaricata effettivamente non è che avessero bisogno di dimagrire. Io stessa in questo momento non sono a dieta, non è che stia seguendo una dieta, quindi dimagrire senza seguire una dieta mi sembrava improbabile. Però è molto utile secondo me per tenere appunto sott'occhio cosa mangiamo. Cioè per vedere quanti grassi ingeriamo nella giornata, quante proteine, quanti carboidrati. E per vedere soprattutto se durante una giornata assumiamo tutto il necessario, per il nutrimento necessario. Affinché il corpo stia bene e si possa fare sport in tranquillità. Insomma io l'ho intesa più in questo modo, più che per dimagrire. E' un'applicazione come tante altre, ho scoperto che ce ne sono tante altre molto simili. Si chiama Live Zoom, scritto live tipo vita e zoom tipo sommario, forse è Live Sam, non lo so. Ora entro e vi faccio vedere com'è fatta. L'applicazione è questa qui e si chiama Live Zoom. Praticamente è fatta in modo da impostare il proprio peso, la propria altezza, se si vuole dimagrire o no. Quando ero a dieta, ad esempio, vi faccio vedere una giornata tipo, io stavo sulle 1400 calorie. Quindi ho impostato 1446 kilocalorie, che in realtà era quello che mi veniva suggerito in base al peso, altezza mio e il peso che volevo raggiungere. Infatti io dovevo perdere pochissimo peso, infatti sono abbastanza calorie. E ho impostato il numero di calorie e ho impostato il tipo di dieta che volevo seguire, che era una dieta equilibrata. Cioè in cui proteine, grassi e carboidrati fossero divisi in questo modo. 181 grammi di carboidrati, per esempio 72 grammi di proteine o 48 di grassi. Insomma, proporzionata la cosiddetta dieta mediterranea. E dunque, vi faccio vedere una schermata perché è più facile a farvelo vedere che a spiegarlo a voce. Come vedete, qui c'è scritto 1400 kilocalorie, non so se riuscite a leggerlo. È il quantitativo di calorie che potevo assumere in quella giornata. Qui si sono la quantità di calorie che ho assunto in quella giornata. E le calorie sono suddivise ovviamente in carboidrati, proteine e grassi. Ad esempio, qui vedete che è diventato in parte rosso perché ha assunto 110 kilocalorie in più rispetto ai 1440 che avrei dovuto. Quando invece capita che si assumano meno calorie rispetto al dovuto, io come al solito qui ho 1446 per esempio, che era il numero di calorie che potevo ingerire. Io ne ho assunte 1068 per errore, la rotellina non si colora tutta e non diventa neanche verde. Ora vi faccio vedere. Esempio, qui è tutta verde e mi mancavano 41 kilocalorie e avevo ancora da mangiare 41 kilocalorie e quindi è verde e ho rispettato il previsto. Ora passo a farvi vedere come si inserisce il peso. Vado alla tabella di oggi. Al centro vedete che ci sono 1600 kilocalorie perché in questo momento non sono a dieta e non faccio attività fisica per la via delle costole. Quindi che mi sono rotta. Quindi vedrete al centro un numero molto più alto delle calorie di una persona a dieta. Infatti c'è scritto 1600. Come vedete la tabella qui intorno non è ancora stata colorata. Perché? Perché io ancora non ho inserito niente. Come si inserisce questa la cosa figa? Allora voi selezionate il pasto, ad esempio colazione. E a parte che mi viene fuori quello che mangio di solito a colazione, cioè il cappuccino come voi sapete. Allora metti in selezione il cappuccino che è fra gli ultimi. Ti dice, prima di mangiarlo, tu puoi controllare non solo quante calorie ha, che ha una importanza molto relativa, ma quanti grassi, quanti carboidrati e quante proteine ha quel determinato alimento. Vedete? C'è proprio la tabella nutrizionale a seconda del quantitativo che inserite di un alimento. E un altro modo per inserire i vari alimenti, oltre a quelli che vengono fuori qui sotto perché sono quelli che ho mangiato di recente, è il cercarli, quindi c'è un punto intorno a una lente di ingrandimento, aspettate, c'è in alto una lente di ingrandimento, quindi io lo cerco e scrivo, che ne so, gelato, e mi viene fuori un sacco di tipi di gelato esistenti in commercio. Non solo i gelati sciolti, per dire, ma anche lo sneakers, barrette gelato, gelato fragola, san montana, gelato viennetta, eccetera, e tu puoi selezionare sia il gelato per grammi, che per pezzo tipo un gelato spiderman, un twix gelato, ok? E l'altra modalità figa, ed è veramente figa, per selezionare uno degli alimenti, è questa qui. Di fianco alla lente di ingrandimento, vedete che c'è un codice a barre? Allora io seleziono il codice a barre e sullo schermo mi si apre la fotocamera. Se invece di inquadrare il mio naso avessi inquadrato un codice a barre di un alimento, questo l'avrebbe riconosciuto. In questo modo voi non dovete neanche selezionare gli alimenti, cioè digitandoli. Basta inquadrare il codice a barre, neanche fotografarlo, che così le foto ti rimangono tutte lì, che sono inutili. Tu inquadri il codice a barre e lui ti seleziona l'alimento che stai per mangiare. In questo modo hai sott'occhio non solo i valori nutrizionali di tutti gli ingredienti, ma il quantitativo di grassi che ingerisci durante una giornata. Per me è stata utile questa applicazione non tanto per dimagrire, vi dico la verità. Uno dimagrisce soltanto se si affida alle mani di un esperto, ha voglia di fare la dieta e attività fisica. Sempre aiutato da persone capaci che ti sanno consigliare, che ti sanno stare dietro, senza che tu rischi la tua salute e non con un'applicazione del telefono. Però un'applicazione del telefono ti può aiutare a renderti conto, come è successo nel mio caso, che io assumevo troppe poche proteine. Quando io non sono a dieta, paradossalmente questa applicazione a me è servita molto di più nel momento in cui non ero a dieta, perché quando sono a dieta è ovvio che seguendo io una dieta bilanciata e fatta da un dietologo, tutte le giornate erano, e l'ho verificato, erano tutte bilanciate, grazie al cavolo, io seguivo quello prescritto da uno specialista. La cosa interessante è che quando non ero a dieta invece io assumevo molte poche proteine e molti grassi, cioè molti grassi, sforavo sempre del quantitativo di grassi che avrei dovuto assumere. E questo, senza questa applicazione, io non l'avrei neanche sospettato, perché sinceramente non ingrassare, non dimagrendo, in questo momento pensavo di tenere, cioè di mangiare in modo equilibrato. Quindi, ricapitolando, questa non è un'applicazione che fa dimagrire, nonostante quello che abbia detto mia mamma e anche la sua collega. Anche perché, vi assicuro, di tutte le persone che l'hanno scaricata, che io conosca, tragicamente nessuna dimagherita, anche se alcune avrebbero voluto. Però, attraverso questa applicazione, si può avere una maggiore consapevolezza di quello che si ingerisce durante una giornata, soprattutto quando non si sta facendo la dieta. Vi dico, io ero indecisa se fare o no questo video, perché questa applicazione, secondo me, può essere molto utile per delle persone dotate di un senso, non intelligenza, responsabili. Su delle persone responsabili può essere molto utile, veramente molto utile. Su delle persone poco responsabili, che hanno soltanto in testa il dimagrimento, allora può essere un'arma molto pericolosa. Perché? Perché in questo modo tu verifichi il quantitativo di calorie che ingerisci ogni volta, precisamente, e quindi può scattarti in mente quella cosa di continuare a diminuirle. Quindi ero molto tentata di non fare questo video, però io mi rimetto sempre alla vostra intelligenza e sono sicura che una persona che non vuole mangiare e non vuole rispettare il proprio corpo, assumendo il quantitativo di grassi, proteine, carboidrati, giusti, non credo che si rovini perché io ho consigliato questa applicazione, non credo proprio. Credo che una persona, perché quelle sono malattie purtroppo, una persona che non vuole mangiare non lo fa a prescindere da un'applicazione sul telefono. E per questo mi sono decisa alla fine della fiera di fare questo video, per consigliarvela, soprattutto, vi ripeto, nel momento in cui non sarete più a dieta e, come me in questo momento, per controllare le calorie, proteine, grassi, eccetera, che assumete durante la giornata. Scusate, ho fatto tutto un discorso serio, però, quando uno consiglia una roba del genere, deve anche fare le premesse giuste e deve anche mettere in guardia le persone. e io ci tengo moltissimo a questo discorso, cioè a spiegare cosa mi muove e cosa mi fa scegliere che tipo di video fare e, in questo caso, io ci tenevo moltissimo, insomma. Scusate, mi sono un po' persa. Detto questo, vi saluto, mi mando un bacione e al prossimo video. Ciao! Ah, volevo solo farvi vedere come funzionava la faccenda della lente di ingrandimento e di inserire il cibo, perché prima non avevo nessun cibo a parola di mano e quindi mi dispiaceva, volevo farvelo vedere. Quindi, entro sull'applicazione, sono sulla giornata di oggi, che, come vedete, ho compilato tutto, nel senso che non ho compilato assolutamente nulla, e vado a... buon pranzo! Codice a barre. Mi si apre la fotocamera, questa è la mia faccia, ovviamente non riconosce nessun codice a barre, però questo è un codice a barre, lo mette a fuoco e viene fuori miele da caccia bio, eh? Ed effettivamente, dai vai a fuoco, ed effettivamente è il miele da caccia, non so se è bio. Qui dice di sì, è quello careful comunque. E mi dice, per il miele ad esempio, e ad esempio per il miele mi dice che ha 300 kcal per 100 grammi, metti in caso che io, ovviamente il miele non ha, voglio fare i 10 grammi, mi fa 32 kcal, ecco, e poi mi dice quanti grassi, che ne ha 0 il miele, chiaramente quante proteine e quanti carboidrati ha. Il miele ovviamente, così potete scoprire che ha soltanto carboidrati. Qui ci sono infatti 0 grammi di proteine, quanti sono? 8 grammi di carboidrati, 0 di grassi e il resto, durante i 2 grammi sui 10 è ovviamente acqua. E basta. Così vi ho fatto anche vedere come funziona. Mettete caso che io inserisca il miele, dico aggiungi 10 grammi, ho soluzionato 10 grammi qui, aggiungo, mi torna alla schermata di prima con i 10 grammi in più di miele, che sono quella pezzettino lì colorato. Ecco fatto. Ora che vi ho fatto vedere anche come funziona l'applicazione, posso andare tranquilla a letto. Come vedete ho già acceso le luci, vuol dire che questa parte di video l'ho registrata molto dopo, infatti il sole praticamente è già calato. Però ci tenevo a farvi vedere anche questa faccenda del codice a barre, perché sapevo di non essermi spiegata bene. Spero che se scaricherete questa applicazione, la scaricherete utilizzandola con intelligenza. Io mi rimetto come sempre al vostro buon senso, al buon senso delle persone. E vi ripeto, io sono convinta che se qualcuno utilizzasse, se qualcuno volesse utilizzare questa applicazione in modo poco costruttivo, o soprattutto pericoloso per la sua salute, non credo che sarebbe l'applicazione il suo problema. Il problema di una persona che si vuole far male è che si vuole far male. Il modo lo trova, a prescindere da un'applicazione sul cellulare. Per questo ho scelto di fare comunque questo video in cui ve ne parlavo. Vi saluto un'altra volta, un bacione, ciao al prossimo video!